la fascia staranno il terreno mette la palla in mezzo Pirritano e questa volta è il rigore Pirritano ha ottenuto il massimo altello di Marcovoci uno due tre quattro passi Marcovoci di destro ed è gol con Mellace palla in mezzo delicatissima ed è lui Mellace molto bravo questo giocatore tocco delicato per Procopio che si gira Salvatore Procopio abbiamo approfittato della sua cortesia durante tutta la telecronica domenico Saturno quindi ora lo vedete anche De Visu è una sconfitta dura per il tropea ma un tropea che in base ai suoi obiettivi probabilmente ha dei buoni auspici per il futuro eh sì diciamo di sì oggi la partita è andata così è andata per il 3 a 0 per il Monte Paone è una partita il risultato mi sembra sia abbastanza giusto vista anche la superiorità dell'altra squadra un auspicio per il futuro speriamo si cambi questo rendimento da parte della squadra e soprattutto si è visto un bel tropea all'inizio del secondo tempo segno che registrata qualcosa in spogliato insomma la differenza c'è stata sì ci servirà molto questa partita per farci capire quali sono quali sono stati i nostri errori per cambiare in futuro ed eccoci ora con mister Pisano una vittoria per 3 a 0 ma la prima notizia sono le condizioni di Doria perché abbiamo visto che eravate intorno a lui per sapere cosa si è fatto no stavamo semplicemente facendo una chiacchierata con lui per capire non so le sue impressioni perché poi sono è importante visto che non si è gonfiato il ginocchio spero che non ci sia niente comunque su queste cose bisogna fare particolare attenzione quindi poi vedremo dopo le 48 ore sicuramente di solito il Monte Paone vince in maniera ragionata senza fretta e cercando di mettere alle corde gli avversari però oggi c'è voluto un super Mellace che ha messo la palla dove nessuno poteva arrivarci no non sono d'accordo nel senso che solitamente vince ragionando e giocando cercando di trovare gli spazi senza avere tanta fretta oggi fretta ne abbiamo avuta tanta purtroppo giocando secondo me male non sono contento per niente di come abbiamo giocato Mellace si ha fatto un bel gol sicuramente sono contento ovviamente per il risultato però sulla prestazione non non sono soddisfatto e sul clean sheet in difesa importa dopo tre giornate questo è un dato importante sì sì no sicuramente poi le giornate sono sono quattro quindi ancora ancora più ancora più importante nel senso che comunque siamo riusciti a trovare un certo equilibrio però vorrei non vorrei questi cali perché oggi secondo me ho avuto l'impressione in alcuni momenti che siamo stati troppo sicuri di noi stessi non ce lo possiamo permettere perché non abbiamo niente in più delle altre squadre se non facciamo la partita come prepariamo durante la settimana